Un'altra parabola. Utilizzare i dischetti è come iscriversi nella miglior classe al mondo per quanto riguarda il corpo docente. Si hanno sette professori, sette insegnanti i migliori al mondo. Ognuno di noi si iscrive in questa classe. Ognuno di noi avrà diversi risultati. Come in una classe ci sarà chi prenderà dieci elode in tutte le materie, c'è chi prenderà dieci elode in una materia, otto in altre, quattro in altre, c'è chi prenderà tutti e quattro. Cosa significa? Che gli organi del nostro corpo, le funzionalità che vogliamo ripristinare? Risponderanno, pur essendo davanti agli stessi professori che spiegano le stesse cose e che sono i migliori al mondo, otterrà risultati differenti. Tutto qua.